Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di una vendita, in particolare di una Suzuki GS500 E del 1977, ma andiamo con ordine perché prima voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale, un meccanico d'auto che ha restaurato il suo Malaguti MRX50 del 1989. La sua officina di riparazione si chiama WM Autoservices, si trova a Briccherasio, provincia di Torino, via San Michele, 15, telefono 338 22 39 795, te lo dico perché c'è uno sconto del 10% se telefoni a nome del canale. Stavo dicendo di questa Suzuki perché mio vicino di casa ed amico, si chiama Emilio, mi ha mostrato la moto che ha in garage, una Suzuki per la precisione GS500 E del 1977 per essere precisi, si tratta quindi di una moto d'epoca sicuramente che da diversi anni è in garage e non viene utilizzato, visto il libretto della moto che ha avuto un solo proprietario l'attuale ed è del 1977 appunto vedendo il libretto che mi ha mostrato. Parlando con lui mi ha detto che vorrebbe appunto venderla a meno per avere più spazio in garage e da mio punto di vista è un peccato tenere una moto così ferma e quindi ho detto che avrei chiesto se qualcuno è interessato all'acquisto della moto. Quindi mi rivolgo in particolare agli amanti del marchio che si trovano vicino a Tortoretto Lido in Abruzzo perché siamo qui in vacanza e questo è quanto. Se quindi si è interessato manda un messaggio con scritto Suzuki all'e-mail del canale 1m.secco1.gmail.com l'e-mail comunque che trovi sul canale in modo che poi possa metterti in contatto con l'amico Emilio. Quindi a questo punto vediamolo questa moto in questa immagine che la rappresenta è una moto molto semplice per un quattro cilindri che ha così delle caratteristiche interessanti che vediamo in ordine e vediamo il motore che è un quattro cilindri in linea raffreddato ad aria a quattro tempi e attualmente la cilindrata è di 498 cm3 e la distribuzione bialbero in testa con due valvole per cilindro. Potenza massima di 47 cavalli e 9.250 gira al minuto. Il telaio è in doppia culla classico in acciaio con la sospensione anteriore formata da una forcella telescopica tradizionale e doppio freno a disco, si vede bene nell'immagine, da 275 mm. Per la parte posteriore abbiamo, qui lo vediamo bene anche qui nell'immagine, una bella coppia di ammortizzatori, il freno sempre a disco da 275 mm anche se è naturalmente singolo, il serbatoio da 17 litri, peso secco di 200 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi, primo gratis, non ti costa assolutamente nulla, però contribuisci alla diffusione del canale e ti ringrazio. In secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie mille e buona serata.